Una squadra come la nostra che vuole fare bene, vuole continuare a crescere, deve essere in grado, dopo aver fatto quel grande sforzo, perché non era facile fare quello che abbiamo fatto noi di ribaltare la partita, deve essere in grado di fare delle cose migliori rispetto a quelle che abbiamo fatto noi negli ultimi 5 minuti. Speriamo che possa servirci l'esperienza, anche perché tra pochi giorni subito rientriamo in campo e abbiamo una partita altrettanto insidiosa. È accaduto che purtroppo non siamo stati bravi come in altre volte a tenere il risultato. Non abbiamo fatto un bel primo tempo purtroppo, gli avversari ci spezzavano questo ritmo fermando la palla con i difensori, non siamo riusciti ad andarli a prendere, a cercare riferimenti e non siamo riusciti a prendere il ritmo della gara. Abbiamo provato a rimediare all'intervallo, nella ripresa abbiamo fatto sicuramente meglio e eravamo stati in grado di ribaltare questo risultato. Peccato ancora una volta non essere riusciti a portarla a casa perché sarebbe stata una vittoria, oltre che meritata, anche molto importante. Adesso è appena finita questa partita, ora vediamo quali sono i giocatori che hanno recuperato, quelli che hanno bisogno di più giorni per recuperare. E martedì sono convinto che al di là di chi giocherà a destra o a sinistra, dobbiamo essere in grado di fare una partita di grande intensità, molto simile a quella del secondo tempo. Adesso giocheremo tante partite, come ho detto prima di questa sarà bisogno di tanti giocatori che abbiamo a disposizione, ma ci sarà bisogno della mentalità della squadra perché è quella sempre che fa la differenza al di là degli interpreti.